Hanno utilizzato tutti questi bidoni, i ladri che questa notte sono ritornati al cimitero comunale di Polla. Sono ritornati perché purtroppo nel cimitero già la scorsa notte i ladri erano venuti a far visita ma soprattutto avevano preso di mira l'ufficio del custode del cimitero dove avevano rubato circa 130 euro. Questa notte però uno scempio totale all'interno della parte vecchia del cimitero comunale perché nel tentativo di rubare dei vasi di rame l'oggetto del furto è sempre quello. Il rame hanno anche distrutto diverse tombe, le hanno profanate perché sono diverse le tombe con i marmi divelti e anche delle croci tolte da sopra. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Polla che erano qui questa mattina avvertiti dal guardiano del cimitero comunale e da alcuni cittadini che sono rimasti allibiti di fronte all'ennesimo scempio che si può vedere all'interno dei nostri cimiteri. Presenti anche la polizia municipale del comune di Polla. Ricordiamo che circa 20 giorni fa nuovamente il cimitero del comune di Sant'Arsena è stato oggetto di furto di rame. Negli scorsi anni il cimitero è stato preso di mira diverse volte dai ladri. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del vile gesto.